Domenica 26 marzo, quinta di quaresima, una colletta nazionale promossa dalla conferenza episcopale italiana mobiliterà tutte le chiese italiane a sostegno delle popolazioni di Turchia e Siria colpite dal terremoto del 6 febbraio. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio. La presidenza della conferenza episcopale italiana a nome dei vescovi italiani ha condiviso l'appello che Papa Francesco ha rivolto alle popolazioni della Turchia e della Siria duramente colpite dal terremoto che ha causato migliaia di morti e di feriti rinnovando la profonda partecipazione alle loro sofferenze. Per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali la presidenza della CEI ha avviato una colletta nazionale da realizzarsi in tutte le chiese italiane nella quinta domenica di quaresima, ossia il prossimo 26 marzo. Le offerte potranno essere inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile. Inoltre la CEI ha disposto uno stanziamento iniziale di 500 mila euro dai fondi dell'otto per mille per iniziative di carità di rilievo nazionale. L'importo sarà erogato tramite la Caritas nazionale già operativa sul posto per alleviare i disagi causati dal sisma e a cui è stato affidato il coordinamento degli interventi. E intanto cresce il numero delle vittime accertate, mentre diversi risultano ancora i dispersi e i feriti. Anche per i sopravvissuti la situazione è drammatica. Hanno bisogno di tutto e sono in forte difficoltà per il reperimento di cibo e acqua e patiscono le temperature troppo rigide. Per offrire il proprio contributo è già possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza utilizzando il conto corrente postale numero 347013 o attraverso una donazione online tramite il sito www.caritas.it oppure tramite bonifico bancario. Si tratta di un piccolo gesto che rappresenta un segno concreto di solidarietà ai bisogni delle popolazioni terremotate sia materiali che spirituali.